I Mattia Bazzar con Ti Sento, 7 e 45 minuti, continuiamo con gli ospiti qui a Good Morning Milano perché abbiamo un collegamento telefonico con il bravissimo e interessantissimo perché fa delle cose veramente veramente interessanti, Luciano Vacca, buongiorno Luciano Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioscoltatori Grazie mille, grazie mille di essere qui, bravissimo, ricordi bene, radioscoltatori e videoscoltatori perché effettivamente noi siamo sia in radio che poi volendo ci potete rivedere in diretta su Milano Agliuso puoi rivedere anche con il video podcast, con tutte le immagini e tutti i nostri contributi sul nostro sito Luciano ti ho chiamato perché questa sera nella vostra biblioteca di condominio già solo così mi piace, poi si chiama Biblioteca di Condominio Aler Falcone Borsellino cioè non c'è un nome più bello che potete dargli, fate un'iniziativa molto interessante in vista appunto della giornata della memoria di domani, giusto? Sì, sì, la giornata della memoria è domani però noi di solito le iniziative culturali facciamo il venerdì pomeriggio quindi alle 18 questa sera l'iniziativa la dedichiamo a un focus particolare che riguarda sempre la giornata della memoria abbiamo un esperto di storia della Polonia e questa sera terrà sostanzialmente un convegno una conferenza dedicata alla storia della Polonia la storia della Polonia quella contemporanea, moderna contemporanea e approfondendo le ragioni, i motivi per cui gran parte dei campi di sterminio dei nazisti furono creati sul territorio polacco quindi anche le ragioni sociologiche, antropologiche che permisero anche per lungo tempo di mettere in atto insomma domande che magari spesso ci siamo fatti e possiamo avere appunto delle risposte questa sera appunto alle ore 18 presso la vostra biblioteca di condominio Luciano ricordaci un attimo che cos'è una biblioteca di condominio e cos'è la vostra biblioteca di condominio Sì, la nostra biblioteca di condominio l'abbiamo dedicata emblematicamente a due giudici che sono stati e sono eroi della nostra storia i giudici Falcone e Borsellino la ragione per cui abbiamo dedicato questi giudici è perché la biblioteca di condominio è il lavoro il risultato di un lungo lavoro ormai decennale di un gruppo di cittadini quasi tutti inquilini delle case dell'area di via Giulio Belinzachi che hanno dato battaglia all'illegalità che primeggiava nel nostro condominio oggi tutto ciò non esiste più e ci permettiamo fino anche di fare una conferenza dedicata ai campi di sterminio della Polonia Insomma, è interessante perché appunto la cultura ha riuscito a prendersi uno spazio uno spazio proprio fisico e togliere invece spazio all'illegalità che come dicevi appunto serpeggiava all'interno dei vostri caseggiati adesso invece c'è cultura c'è conoscenza c'è anche poi comunque un gruppo di condomini che ormai si è coeso intorno a questo luogo anche Sì, sì, ormai come dire si è consolidato nel corso del tempo e questo avviene perché si fanno delle cose insieme sostanzialmente ma la biblioteca di condominio oggi Falcone Borsellino è diventata una biblioteca che attrae i cittadini da tutto il quartiere Noi oggi pomeriggio avremo decine, decine, decine al punto tale che non potremmo neanche ospitarli tutti nella biblioteca che provengono dal quartiere i feedback che io ho ricevuto le prenotazioni per stasera sono davvero tanti Bello Insomma, è interessante che appunto diventa un luogo simbolo non solo per il condominio a quel punto ma diventa un luogo simbolo importante per tutto il quartiere Ricordiamo appunto via Giulio Belinzaghi all'11 zona ricordiamo anche la zona così È zona Marciacchini si scende dalla metropolitana Marciacchini via Le Marche la prima attraverso a destra via Belinzaghi Ecco, più facile di così ce l'abbiamo anche meglio del tutto città guarda, perfetto e dicevo importantissimo che questa cosa appunto viene fatta poi in un caseggiato aler e con tutto un quartiere che a questo punto vuole bene e aiuta anche al buon svolgimento dell'iniziativa Era uno dei nostri obiettivi quelli di obiettivi strategici era quello di creare una relazione vera costante tra quelli che abitano all'interno del caseggiato e quelli che stanno nel quartiere che non abitano nel caseggiato le risorse sono state messe in campo e i risultati sono stati prodotti Ecco, dicevo pensavo adesso ormai è quasi riduttivo biblioteca perché veramente siete diventati un centro importante all'interno del quartiere non si viene lì solo per prendere un libro ormai cioè non è più questo giusto? No, no cioè da noi noi facciamo parte di un progetto anche più ampio del comune di Milano Ottimo che stimola alimenta favorisce la creazione delle biblioteche di condominio quindi da noi due volte a settimana il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 si può venire consultare il materiale librario prenderlo in prestito come qualsiasi altra biblioteca del comune di Milano ovviamente restituirlo Non è scontato bravo Luciano e se no io li chiamo attenzione e sì perché noi insomma il materiale librario che abbiamo accumulato è anche quello un lavoro che abbiamo fatto di raccolta di selezione di catalogazione eccetera eccetera e poi noi quasi tutte le settimane facciamo iniziative culturali di vario tipo quindi dalla presentazione dei libri piuttosto che dalle conferenze piuttosto che dai convegni abbiamo ospitato un convegno dell'UNESCO un paio di anni fa ci siamo confrontati in presenza con esperienze di Barcellona di Londra insomma è una realtà da conoscere è una realtà da conoscere questa sera avete la possibilità se volete alle ore 18 appunto alla biblioteca di condominio Falcone Borsellino in via Giulio Belinzaghi all'11 Luciano grazie mille buona iniziativa per questa sera allora grazie a te e grazie a tutti i nostri radio ascoltatori e video ascoltatori grazie buona giornata grazie a te Luciano e allora noi andiamo avanti andiamo avanti con un po' di musica sono i Club Dog sapete ne parlano tutti e un pezzo storico dei Club Dog non potevamo che ascoltarlo qui su Cristian Radio a Good Morning Milano 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 Grazie.